Il saluto del nostro primo cittadino, Marco Alessandrini, buonasera signor sindaco Buonasera Funzionano le cose quando tutte le componenti ci sono Scusate un attimo Scusate un attimo Scusate un attimo Adesso non ci facciamo riconoscere Se non fate un applauso adesso me ne vado Grande serata, grande Pescara, grande la squadra, grande il pubblico e grande l'entusiasmo Buona serata a tutti per una squadra e per una città in serie A Ok